In calo i dati dei nuovi casi di covid secondo gli ultimi bollettini. L'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute ha certificato la presenza di 31.204 nuovi casi di covid, mentre il dato riguardante la Sicilia parla di 2.678 nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore nella provincia nissena sono stati 188 i pazienti in risultati positivi, tutti in isolamento domiciliare. Nel dettaglio 60 sono di Gela, 42 di Caltanissetta, 19 di Niscemi, 18 di San Cataldo, 16 di Mazzarino, 11 di Mussomeli, 6 di Butera, 4 di Sommatino, 3 di Riesi, 2 di Campofranco, 2 di Delia, 2 di Milena, 1 di Acquaviva, 1 di Serra di Falco e 1 di Villalba. Dalla degenza ordinaria è stato dimesso un paziente di Mussomeli. Guariti dal covid 171 pazienti di Gela, 151 di Caltanissetta, 71 di San Cataldo, 34 di Serra di Falco, 32 di Niscemi, 21 di Butera, 20 di Riesi, 16 di Mussomeli, 15 di Mazzarino, 11 di Sommatino, 8 di Campofranco, 6 di Delia, 6 di Villalba, 4 di Sutera, 3 di Milena, 3 di Resuttano, 3 di Vallelunga, 1 di Acquaviva, 1 di Marianopoli e 1 di Santa Caterina.